Sono convinti di avere le competenze necessarie e di avere una ricetta efficace sulla logistica in grado di connettere Roma all'Europa. Per questo, Federmanager Roma chiede di sedere al tavolo sulla capitale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, che coinvolge Governo, Regione e Comune. Così, dopo il primo appuntamento che si è svolto un anno fa, l'Associazione ha creato un secondo momento di confronto tra i principali stakeholder della città e con i policymaker interessati. Cosa è stato realizzato a circa un anno di distanza, lo spiega il Presidente Giacomo Gargano. Come al solito in Italia c'è un sistema di burocrazia che tende a bloccare anche le iniziative più interessanti, tenendo conto che però è partito il tavolo per Roma e diciamo che riteniamo che anche noi dovremmo partecipare a quel tavolo, visto anche le competenze manageriali che abbiamo. Noi abbiamo manager diffusi in tutte le grandi aziende del Lazio, grandi, medie e piccole e tutti anche i manager delle aziende municipalizzate e regionali fanno parte della federazione. Quindi abbiamo le competenze, le abbiamo chieste al Ministero e credo insieme alla Cida e credo che nei prossimi giorni dovremo incontrare. Diverse le idee messe in campo, dal consolidamento del polo logistico di Santa Palomba, alle interconnessioni smart strada rotaia tra il porto di Civitavecchia, agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e la città di Roma, dallo sviluppo di energie rinnovabili a un sistema completo e integrato di carico-scarico merci, fino al completamento del parco archeologico di Ostia Antica, porti di Claudio e Traiano a Fiumicino per promuovere lo sviluppo ulteriore del traffico passeggeri. Quest'anno, sostiene FederManager, si è però assistito a un generale cambio di passo e a rivendicare il lavoro svolto è stato il Vice Ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini. Il primo protocollo di intesa che è stato realizzato in Italia, l'abbiamo siglato poche settimane fa, mette allo stesso tavolo tutti i soggetti decisionali che hanno un peso forte istituzionale, per cui possiamo dire che oggi se dovessimo intervenire come lo faremo sul fiumicino o sul porto di Civitavecchia, quel tavolo funzionerà in modo tale da consentire ad Anas di dialogare subito con ferrovie, ferrovie col Ministero, il Ministero con la Regione eccetera eccetera. Significa tagliare i tempi. Il Lazio, con 14.000 aziende e più di 330.000 addetti che lavorano nella logistica, ha numeri importanti per potenziare il suo posizionamento geografico al centro delle autostrade del mare e nel cuore delle reti tenne europee, ha ricordato il Vice Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Grazie. Grazie, grazie per la visione.